Il suo più grande insegnamento è quello di sorridere e ridere su qualsiasi cosa della vita. Infatti il suo desiderio grande era che invece di vederci qua piangere per lui, sorridavamo, festeggiavamo anche del giorno della sua madre. Come dice il prete, non è gioia ma è un segno di vero affetto nei suoi confronti, perché il suo è l'ultimo desiderio. Infatti anche fino all'ultimo non ha mai voluto dire che era grave, che stava male perché lui è stato sempre una persona che rifiutava di essere compatito e quindi ha sempre voluto la gioia e la festa di tutte le persone. Infatti spero che abbia traspesso solo gioia a tutti quattro. Quindi vi ringrazio anche per essere qua in questo giorno e vi auguro un sacco di bene a tutti quattro. Grazie a tutti.